I rapporti nel settore arte tra i vari soggetti, l'artista, i curatori, le gallerie, i musei, gli enti pubblici, penso che sia stato gradualmente, ma letteralmente stravolto. Cioè man mano che andiamo avanti, e parlo già anche del passato vicino, ha perso sempre più peso l'artista come uomo, come soggetto, a meno che non si sia così adeguato a certi canoni di comportamento e di atteggiamento nella società. Ha sempre più prevalente e invadente quasi l'aspetto del curatore, che diventa l'elemento, la persona primaria. Le gallerie sono diventate sempre di più, magari scontatamente, ma dei punti vendita. Si è perso l'aspetto culturale, l'aspetto di contenuti che dovrebbero avere le proposte d'arte, e stiamo andando verso una deriva sempre più esasperata. Ho poca fiducia che le cose vadano al meglio per l'artista, io parlo come artista. Ho una visione abbastanza pessimistica di un futuro immediato, a meno che, e qui è una scelta individuale, uno non si adegui e si adatti, tra virgolette, adatti a certe regole, a certe omologazioni, a certi comportamenti imposti da altri e non da se stessi.